Il tempo per me è rappresentato da attimi, da momenti che vivo sempre molto intensamente sia nella vita professionale che nella vita privata. Quando stacco dal lavoro e entro nel mio camerino mi rilasso completamente, mi sdraio sulla sedia, mi strucco tranquillamente, faccio le mie telefonate, sembro quasi un'altra persona, però forse è più quella dell'Eleonora vera che quella che poi si vede. Mi piace stare con le amiche e ritagliarmi dei momenti facendo anche una semplice corsa insieme al parco. Mi piace molto avere dei consigli dalle amiche, magari poi difficilmente li seguo, ma mi piace chiederli perché probabilmente mi servono per darmi poi delle risposte. Se devo immaginarmi il mio momento, this is your time, ma per me è semplice. Letto la mattina con i miei bambini. Grazie a tutti.